Pensiamo che la vita di comunità possa essere da stimolo per da una parte accogliere e integrare tutte le famiglie dall'altra per le famiglie di sentirsi veramente parte di una comunità che procede pur nelle difficoltà ma si sente veramente chiesa viva, una chiesa appunto come è stato già detto inclusiva che non mette delle barriere o degli steccati ma che cammina ciascuno con il proprio ritmo anche con i propri limiti e le proprie capacità perché è chiaro che non tutti noi abbiamo avuto delle grazie dei doni perché già il fatto di essere qui vuol dire che c'è qualcuno che custodisce i nostri figli quindi questo è un dono. Ecco se questo fosse allargato a tutta la comunità credo che avremo veramente la famiglia può diventare sì una via della chiesa e viceversa la chiesa può beneficiare molto di questo contributa.